... Nome Mattia Marco Cognome Pinna Gossà Età 13 anni 13 anni A che età hai iniziato a giocare nella Novese? 8 anni 8 È la prima volta che vi hai intervistato? Si Si Come sta andando la tua squadra in campionato? Abbastanza bene, ci siamo per qualificare un'era giunta Bene, dai siamo secondi In che ruolo giochi? Attaccante Il mister centrale Ti piace? Si Insomma Il mister ti ha mai impiegato in un ruolo che non era il tuo? Poche volte Qualche volta Quanti gol farai quest'anno? Più possibile Tanti speriamo Tra PlayStation e Xbox cosa scegli? Xbox PlayStation Hai detto ai tuoi amici che ti avremmo intervistato? Si Si Secondo te dopo questa intervista diventerai famoso? Eh, non credo Speccante La tua materia preferita? Ginnastica Inghilese e matematica Quella che invece proprio non sopporti? Francese Tecnologia Meglio studiare o giocare a pallone? Giocare a pallone Giocare a pallone Da grande vorrai diventare un calciatore professionista? Si Certo Ti piacerebbe vestire la maglia della prima squadra? Certo Si, molto Sei mai andato a vedere una partita della novesa al Girardengo? Si Quasi tutte le domenica Quanti palleggi consecutivi riesci a fare? Non dico... 100 Tra voi due Chi è? Più veloce? Lui Pari più Chi è più bravo di testa? Lui Io Chi è più bravo nel dribbling? Entrambe Lui Quando non giochi bene ti disperi o pensi andrà meglio la prossima volta? Mi dispero Mi dispero Hai mai sbagliato un gol a porta vuota? Si No Se ti trovi con un tuo compagno davanti alla porta avversaria tiri o provi a fare un assist? Tiro Tiro Oltre al calcio quali sono i tuoi sport preferiti? Non ne ho Tennis e poi lavoro Immagina di aver vinto il pallone d'oro Fai un ringraziamento al pubblico che ti ha votato Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato perché grazie a loro ho finito a vincere il premio più avvito Vediamo quanto conosci il calcio, ti dirò a un calciatore mi devi dire in che squadra gioca Va bene Totti Roma Ibraimovic Paris Saint Germain Cassano Parma Parma Buffon Juventus Messi Barcellone Barcellone L'allenatore della prima squadra, Mister Sterpi, ti sta ascoltando. Convincelo che sei uno giusto per la prima squadra Mister, non ti deluderò Io sono un giocatore abbastanza affidabile e spero che possa convivervi Condividerai questa intervista sulla tua pagina Facebook? Non so Facebook Fammi sentire come esulti quando segni Si Saluta tutti i tuoi fans Ciao 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 Ciao